Daniele, siamo con te, tutti vicini alla famiglia Ferretti. Daniele è riuscito a salvare la propria vita e la vita della moglie dall'assalto di due delinquenti, ma oggi è indagato per omicidio. Solito schema, perché la legge sulla legittima difesa trasforma la vittima in carnefice. Ma state certi che appena torneremo al governo del Paese, tra breve, grazie a voi, Forza Italia presenterà una legge semplice sulla legittima difesa. Quattro punti. Primo punto, difendere la propria vita è sempre legittimo. Secondo punto, difendere i propri cari è sempre legittimo. Terzo, difendere la propria casa è sempre legittimo. Quarto, difendere la propria attività è sempre legittimo. Perché difendersi è un diritto, sempre. Il resto sono le solite chiacchiere della sinistra. E oggi ne è l'ennesima prova. Forza Daniele! Forza Daniele!